ecco qua questo è il samsung gt 5100 conosciuto anche come note 8.0 il quale ormai come riscontrato ha un piccolo problema con la batteria che a distanza di un anno circa mi trovo a dover cambiare per cambiare la batteria vi consiglio di usare io ho trovato questo che in realtà serve per non lo so esattamente per il silicone per stendere il silicone però un utensile in plastica non in metallo per poter togliere il dorso del vostro note 8.0 per farlo dovete iniziare da dove c'è la scheda sd aggiuntiva in questo punto infilando appunto un oggetto in plastica abbastanza affilato sotto il bordo e iniziate facendo leva piano piano e è abbastanza duro e quindi dovete fare abbastanza forza però piano piano si solleverà un pezzettino alla volta scatterà finché non arriverete alla zona della porta a infrarossi zona al quale dovete fare particolarmente attenzione perché rischiate di staccare il appunto il collegamento al sensore a infrarossi una volta tolto il dorso procediamo al togliere ovviamente va tolta la batteria e poi vanno tolte vanno svitate tutte queste viti una due tre quattro cinque e basta sei e sollevato questo connettore questo che vedete qua che è il connettore della batteria che dovete sostituire con una originale samsung almeno io ho deciso di fare così visto la pochissima differenza di prezzo tra quelle originali e quelle invece di sottomarca come potete vedere è una batteria da 3 e 7 al litio se non mi ricordo male 4800 mAh ok bene una volta sostituita la batteria mi dovete rimettere tutte le viti che avete tolto e chiudere il coperchio premendo partendo dai lati lunghi e poi girando intorno finché non sentirete scattare il coperchio posteriore del vostro note 8 a questo punto siete pronti per accendere il vostro tablet spero che possa essere stato utile e buon divertimento